Ciao ciao a tutti! Oggi vi darò dei consigli per scacciare la noia! La prima cosa che potete fare, potete iscrivervi al mio canale e se volete potete guardare tutti i miei video oppure potete andare a vedere i miei musicali che ho postato su TikTok o anche le mie foto postate su Instagram. Magari possiamo scrivere un messaggio alle persone che non sopportiamo, per esempio scrivere tutto quello che ci passa per la testa però poi magari possiamo cancellarlo e non mandarlo più e niente. Oppure possiamo fare la stessa cosa con il nostro crush. Oppure possiamo fare la stessa cosa con il nostro crush. Ok ragazzi, adesso lo cancello. Ok ragazzi, adesso lo cancello. No ragazzi, non ci crederete mai. Per sbaglio l'ho mandato. Ma adesso come faccio? Ragazzi, stavo solo scherzando, non l'ho mandato. Adesso lo cancello, era solo uno scherzo. Ecco qua. Possiamo leggere un libro? Possiamo ballare? Oppure possiamo sognare il nostro crush. Possiamo studiare? No. Possiamo sognare uno strumento? Possiamo sognare uno strumento? Allora. Allora. Oppure possiamo magari fare lo shopping sfrenato online, poi mettere tantissime cose varie nel carrello e poi però alla fine non comprare niente. Ragazzi, se comprassi tutta questa roba dovrei spendere 250 euro, però peccato, adesso facciamoli andare via, addio, 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 bellissima roba. Vi vedrò nei miei sogni. Ok. E ragazzi, l'ultima cosa che possiamo fare per consolarci, visto che non abbiamo comprato niente online e visto che non abbiamo neanche mandato il messaggio alla persona che non sopportiamo e visto che non abbiamo neanche mandato il messaggio al nostro crush, possiamo mangiare un sacco di cose buonissime. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettete tanti like e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Alla prossima ragazzi, ciao! Ciao!